Salve, sono Maria Luisa D'Amico, ho 70 anni, sono nata e cresciuta a Roma. Vivo a Pescara, ma ho domicilio anche a Roma. Amo recitare, sono un'attrice professionista e mi piace viaggiare e leggere. Questi sono i miei profili. E queste sono le mie mani. Salve a tutti. Salve a tutti. Salve a tutti.